Oggi il nostro itinerario, attraverso le località turistiche italiane, ci porta in Alto Adige. Siamo in Varlidanna, al confine con l'Austria, a pochi chilometri da Vipiteno e dal passo del Brenner. Di fianco a me abbiamo il responsabile marketing dell'hotel Schneeberg di Racines. Una bellissima struttura a quattro stelle, un vero resort molto capiente e ci delucida su quelle che sono le caratteristiche della struttura. Buongiorno a tutti, la nostra è una struttura abbastanza grande, siamo un complesso alboriero con 200 camere e ben 500 posti letto. Una delle particolarità della nostra struttura, essendo di così grandi dimensioni, è che tutte le camere, essendo in edifici differenti, sono comunque collegate sotterranamente. È una struttura unica di fatto. È appena finita la stagione estiva, da circa un mese diciamo. Ci può dire quali sono stati i dati relativi appunto all'affluenza dei turisti nella vostra struttura? Sì, la stagione estiva si è appena conclusa, adesso siamo in una fase un po' transitiva. Il meteo è dalla nostra parte, per cui anche tutto il mese di ottobre e settembre abbiamo lavorato veramente bene e non sembra mai essersi cottevoli. L'estate siamo molto soddisfatti, questo ci dà anche forza per gli investimenti che continueremo a fare stagione a stagione e ci fa capire che la direzione che stiamo prendendo è comunque quella giusta. Perfetto. Che tipologia di clientele avete? I nostri clienti li possiamo differenziare per la lingua, essendo una struttura in alto agio e quindi la tipologia dei clienti sono maggiormente di lingua italiana e di lingua tedesca provenienti dalle regioni della Germania, dell'Austria e della Svizzera. Per quanto riguarda il target, diciamo che i target principali sono le famiglie. Abbiamo un grandissimo mini club, ma anche un grandissimo reparto acquatico dedicato alle famiglie e in periodi invece dove non ci sono le vacanze, con il nostro grandissimo centro benessere di oltre a 3.000 metri quadrati, siamo sicuramente una struttura dedicata anche a chi cerca solo il wellness e il riposo. Quali sono le prospettive future dello Schneeberg? Le novità, diciamo? Come dicevo prima, la stagione ci ha dato ragione, quindi continueremo in quello che è il nostro obiettivo che ci siamo prefessati e di volta in volta in stagione rinnoviamo sempre delle camere per adeguarci agli standard del giorno d'oggi e sicuramente implementeremo con una nuova zona per bambini piccolini fino ai 3-4 anni acquatica e questi sono i progetti per il prossimo futuro. Per la stagione invernale, quella che è imminente, diciamo quali sono le novità o se fate delle offerte particolari? Per la stagione invernale direi che qui in Alta Montagna, nelle Alpi, siamo nel posto ideale. Qui a Vipiteno, a 15 minuti della nostra struttura, c'è uno dei mercatini natali tra i più belli d'Italia, se non dell'intero alpino. Ovviamente le piste da sci di fondo partono direttamente dalla porta della nostra struttura. Il compressore oscillistico di Racines, che è un vero gioiello delle Alpi, è qui a 10 minuti da casa nostra e c'è lo sci bus gratuito che porta tutti gli ospiti ogni giorno direttamente sulle piste da sci. Non resta che prenotare quindi la vacanza per la prossima stagione invernale qui all'hotel Schneeberg di Racines. Certo, non vediamo l'ora di accogliervi, trovate tutte le offerte e last minute sul nostro sito internet www.schneberg.it Perfetto, la ringrazio.